Ciao a tutti e benvenuti, io sono Zetta, un aspirante game designer nonché fondatore della community di QGN, una community con un sito web qg.info dove parliamo del videogioco da appassionati del videogioco ma spesso e volentieri siamo più informativi di molti siti di informazione. Ovviamente la modestia non fa per me ma in questo video ci vuole tanta modestia perché andrà a fare una reaction, un video fuori di testa di uno che vuole dare un consiglio tra l'acquisto su PS5 e Xbox dicendo una sequela di cazzate. Ovviamente se vi piace il mio canale mettete mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella e cominciamo. Il canale in questione che mi è finito sotto gli occhi è di questo tizio che si chiama Giovanni. Meglio comprare una PS5 o un Xbox Series X. Vi dico la mia, come prestazioni sono praticamente alla pari e anche il prezzo è identico. Prima cazzata grossa come una casa. Allora, diciamo che gliela voglio dare buono sulla potenza alla pari anche se sulla carta Xbox Series X è molto più potente e Xbox Series S è quasi simile a PS5. Però gliela voglio dare buona come cosa perché effettivamente vi lascio un link di un videogioco con lo scemo. Effettivamente molti utenti non notano la differenza tecnica di potenza tra una console e l'altra. Quindi gliela do buono, sono identiche per il prezzo. Il prezzo! Ma se PlayStation 5, Emanue Bagarini e c'è sempre un aumento, c'è stato un aumento di prezzo di 50 euro ed è molto più cara in confronto ad Xbox Series X. Quindi non c'è un prezzo identico. Il PlayStation 5 costa più di Xbox Series. Quindi secondo me la vera differenza la fanno i giochi in esclusiva. Io qui sono team PlayStation tutta la vita. God of War, The Last of Us, Uncharted, Crash Bandicoot. Allora, sono PlayStation tutta la vita, te lo potevi pure risparmiare però... Ma mi hai citato dei giochi all-gen! Tu stai consigliando PS5 o PS4? Se mi stai consigliando PS4, ok. Poi Crash Bandicoot. Ma Crash Bandicoot non è mai, mai, mai e poi mai stata esclusiva PlayStation. È un gioco di Universal che è finito sotto Activision Blizzard. È un IP di Activision Blizzard. È stata esclusiva solo in epoca PS1 e PS2. Poi ha smesso di essere esclusiva Crash Bandicoot. E non è mai stato un IP first party Sony, finitela di questa cazzata. Vi lascio anche un video di Doctor Game dove parlano di Naughty Dog. Dove spiega cosa è successo riguardo l'IP di Crash Bandicoot. Crash Bandicoot non la devi proprio mai, è un errore colossale. Mentre gli altri attualmente sono giochi PS4 che girano anche su PS5. Quindi al massimo mi potevi dire, aspettando che escono nuovi capitoli di queste saghe. Ma a giorno d'oggi non è stato annunciato ancora niente in sviluppo di queste saghe. Quindi perché devi consigliare PS5? Per questa esclusiva? Spider-Man. Tutti titoli che personalmente adoro. E ne ho citati solo pochi. Xbox ha... Solo pochi. Sono solo quelli. Forza Horizon, Halo, Ion Life e altri. Che sono comunque gran giochi. Quindi scegliete in base ai vostri gusti. Ehm... Ce ne sono molte ma molte di più di esclusive. E soprattutto bisognerebbe citare l'elettrocompatibilità che nel caso qualcuno se li fosse persi i vecchi giochi ancora validi potrebbe recuperare. Ciò che su PS5 non puoi recuperare. A meno che con degli escamotaggi un po' più complessi. Però... Sul Halo Infinite Force Horizon? Sul Halo Infinite Force Horizon? Ne sono usciti anche là un po' di più. Vabbè, però... Non entriamo in questo dettaglio. Continuiamo. Già sto soffrendo. Un altro fattore importante è PlayStation Plus contro Xbox Game Pass. Secondo me sono entrambi ottimi servizi. Stupendi. Io li ho entrambi e non riesco a vedere un netto vincitore. Allora... Allora, se parliamo di titoli... PlayStation Plus è meglio di Game Pass. Cioè PlayStation Plus ha molti più... Ha gli stessi titoli di Game Pass e ne ha molti di più. Che sono molti esclusivi PlayStation. O ha molti titoli. Anche indie che sono usciti solo su PS4 e Steam. Che non sono mai arrivati su Xbox. Ha molti indie validi. Come Too Dark. Ora non me ne vengono in mente ma ce ne sono parecchi. Il parco titoli del PlayStation Plus Extra, come cazzo si chiama, è molto più valido del Game Pass. C'ha molti più titoli. Ok, quindi vi dico questo. Però si dimentica una cosa. Non sono identici i servizi. Il Game Pass lo puoi giocare con smartphone. Col cloud. Ha il cloud. Ha i salvataggi in cloud. Se voi giocate su PS Now in cloud, portare i salvataggi, dovete essere degli esperti informatici per portarli sulla console. Non c'è il cross save, che da ovunque giochi riparti da dove stavi giocando. Non c'è il play everywhere. Cioè, se tu compri un gioco PlayStation, su PlayStation 5, non potrai mai giocarlo su PC. Lo devi ricomprare su PC lo stesso gioco per giocarlo. Quindi, no. Game Pass e PlayStation Plus Extra? Ah, no. Cataloghi diversi ed effettivamente, come vi ho fatto vedere in una live per Cougine, è molto più valido il catalogo PlayStation Plus. Però, d'altro canto, non ha tutta la qualità tecnica di servizi che ti dà Microsoft per videogiocare. E per certi versi il catalogo è anche più movimentato, ha molti videogiochi validi che arrivano al day one su quel catalogo rispetto a quello di PlayStation Plus. Quindi, no. Non sono ottimi servizi e non sono identici. sono diversi. Ha possibilità... Anche qui, qua vince Microsoft. Insomma, la faccio breve. Entrambe le scelte sono valide. Il consiglio che vi do io è di basarvi principalmente sulle esclusive che vi piacciono di più. Perché queste sono console e sono fatte per giocare. Quindi, la scelta, secondo me, deve essere pilotata dai giochi. Meglio... L'esclusiva è un'altra cazzata per cui si copre le console. E di certo non vale per PlayStation, ma io lo farei valere per Nintendo. Cioè, Nintendo è ancora l'unica console dove c'ha un sacco, ma un fottio di esclusive. Ma proprio un fottio di esclusive in uscita, dichiarate che stanno uscendo. Mentre PlayStation è ancora un'incognita riguardo alle esclusive. Sì, sappiamo per certezza che usciranno esclusive perché si basa solo sul concetto di esclusive e delle esclusive in ostaggio. Vedi i giochi di Square Enix. Ho i COD o che hanno cose particolari che sono meglio giocati su PlayStation rispetto che Xbox. Però le console fatte per giocare solo su per le esclusive ormai non ha più senso nel 2022. Le console sono fatte anche di dispositivi in cui ti permette di giocare al meglio. Quindi PlayStation 5 è l'unica console rispetto a Nintendo Switch e Xbox che è rimasto ancorato all'epoca PS2. Un concetto obsoleto di videogiocare su console. Quindi io non sto a giudicare quale sia la console. Ognuno farà le proprie scelte. Per esempio c'è chi mi ha detto ho comprato PlayStation 5 per l'esclusiva Demon's Souls perché mi piace giocare a Demon's Souls. Io mi comprerò effettivamente purtroppo su Nintendo Switch sarò costretto prima o poi perché mi piace Splatoon 3 e la dovrò comprare. Ci può stare però questo video è fatto proprio a cazzo di cane coi piedi e non dà nessun aiuto a scegliere ma è una marchetta PlayStation. Non so se sia un video troll potrebbe essere un video troll perché è tutta inesattezza che mi fa pensare che sia un video troll e se non è un video troll è un video fatto da un ignorante oppure una marchetta sponsorizzata nascosta come opinionismo. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate della mia reaction a questo video se conoscetevate questo esemplare che non ho mai visto in vita mia ma mi è comparso mi è stato consigliato di visionare purtroppo cercandomi gli occhi perché veramente è l'apoteosi delle stronzate che si sono detti in questi anni del marketing PlayStation quindi voglio sperare per lui che sia una marchetta che fosse un video troll o che fosse solo un ignorante nel senso del termine che non è che un cretino ma semplicemente ignora veramente che vuol dire giocare su Xbox giocare su Steam giocare su Switch e su PlayStation 5 e soprattutto forse ha la visione limitata perché per non notare le differenze tra Xbox e PlayStation significa che semplicemente lui si mette nella console mette il disco nella console e gioca al videogioco non fa altro con la console quando invece oggigiorno pure una Switch te la puoi portare al cesso con Xbox puoi giocare a che cazzo ti pare quando vuoi come vuoi dovunque vuoi questo è il mio parere fatemi sapere nei commenti ovviamente se vi è piaciuto il video mettete mi piace iscrivetevi al canale e accendete la campanella e lascio parola a voi nei commenti voglio leggere i vostri commenti e le vostre opinioni riguardo sto video che mi ha traumatizzato e ho dovuto farci una reaction che ci sono